Il mister ha detto che abbiamo ritrovato a Jonathan dell'anno scorso. Lo ringrazio, il mister me l'ha battuta, in effetti è vero, oggi sono un po' meglio con le gambe, ho più forza rispetto alle prime parizioni che ero un po' sulle gambe, quindi bene è così, è un punto di partenza per noi, per me, quindi speriamo bene. Il pareggio ti soddisfa? No, ci soddisfa la prestazione, ci soddisfa la vittoria, appunto rammaricati perché non è arrivata, però siamo contenti per la prestazione, deve essere un punto di partenza e da qui iniziamo la nostra scalata. Hai chiesto di farlo alla fine? No, 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 assolutamente, penso che è la scena del mister. Adesso dobbiamo continuare su questa scena nella prossima partita? Sì, sì, assolutamente, ci siamo resi conto che se non diamo il 100% di noi noi possiamo fare fatica, quindi dobbiamo partire da qui, da questa prestazione e quindi già da domenica prossima sappiamo da dove partire. Siete convinti che questo è un buon organico che può puntare a una soluzione tranquilla? Noi abbiamo fiducia in noi stessi, a prescindere dalle titubanze che ci possono essere della piazza, l'abbiamo dimostrato oggi, lo dobbiamo continuare a dimostrare con i risultati, appunto oggi abbiamo dimostrato qualcosina ma ancora è niente. C'è un tracopo più quadrato, difesa praticamente aggiustata, però manca ancora il gol. Sì, come dicevamo la prestazione è stata buona, ogni singolo ha dato l'anima, sicuramente ce l'abbiamo messa tutta e appunto come dicevamo ci è mancato il gol e di conseguenza poi la vittoria.